da molto noi siamo qui da 5 minuti facciamo un applauso e un incoraggiamento forza fate sentire le vostre mani ed ecco in sella forse la più piccola in groppa non in sella al maneggio il braccio di sole cominciamo le attività con i bimbi di 4 anni vedete una delle nostre piccoline che si eseguisce grazie 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 Allora ripeto, maneggio il raggio del sole che dà lezioni di volteggio. Stanno arrivando un po' scocciolate, ma stanno arrivando tutte le nostre bimbe. Bene, bene Enrico, bravissima, te le due bimbe. E soprattutto distruttrice, la vediamo in mezzo al campo. Allora ripeto, la vediamo in mezzo al campo. Allora ripeto, se volete far avvicinare all'equitazione, al volteggio, alla danza, sui veli, ai voli. I nostri piccoli, portateli al maneggio di raggio del sole. Il raggio del sole che lo troviamo qui a Forlì. In viale dell'Apennino, vicino al parco Urbano. Forse un applauso alla piccola. Come vi diceva Enrico prima, le sue allieve partono da un'età di quattro anni, da quattro anni in su. Quindi avvicinare i vostri bimbi alla equitazione. Dovini, lo spero per feo, ma l'ai spettato dai. Buongiorno. Buongiorno. Bravissima questa allieva, questa bimba, dall'età prossimamente di quattro o cinque anni, piccolissima. Bravissima. Credo accetto per lì, all'Erica, con un sorriso, quindi molto contenta della sua allieva. Bravissima in piedi, si ingroppa. Opla! Abbiamo, siamo senti un applauso. E' anche rispettosa l'Erica, di alzare la lunghina mentre sta per uscire. Ve le presento. Allora, Chiara, che fa l'istruttrice. Alice e Awan sono le nostre vecchie. Poi Gaia, Giorgia, Gemma, Etizia, poi abbiamo Anna, Giulia e Adele. E io volevo aggiungere, bravissime tutte, bravissime distruttrice, quindi se volete, come ho detto prima, mi hanno detto che iniziano con un'età di quattro anni a fare i primi allenamenti, se volete portare le vostre bimbe, vi presento il maneggio, il raggio del sole, che lo troviamo qui in Gallia dell'Appennino, all'entrata del parco urbano. Sono lieti di mettere in sella i vostri bimbi. Con questo, l'Erica per ora, si prende un attimo di pausa, vediamo nel lì, fra poco qualche cavallo, no, qualche cavallo, quindi non allontanatevi dal lì, e vi invito già per domani, sempre qui, ci sarà sempre l'Erica anche domani, quindi qualche cavallo forse in più, quindi veniteci a trovare anche domani, grazie.